Comunque in questo rush finale secondo me è importante mantenere una solidità difensiva perché è più facile vincere 1-0 che vincere 4-3 per dire, però in questo momento onestamente voglio pensare poco a rendimento difensivo, voglio pensare solo a vincere. Da qualsiasi di noi venga il gol l'importante è farne uno in più della Carrarese o del Pontedera perché sono due partite molto sensibili e in questo momento bisogna chiudere subito la pratica a salvezza senza troppi giri. Io quando sono venuto qua ho detto fin da subito che la squadra non era quella di Ravenna, qua c'è una squadra di ragazzi di adulti, di gente con esperienza, di ragazzi forti, uno staff con delle idee precise e secondo me questi sono dei punti di forza. Ora stiamo lottando per una salvezza e dobbiamo pensare solo a quello e poi si vedrà, però secondo me i valori, posso dirlo perché comunque qualche anno l'ho fatto, i valori sono molto molto buoni. Ho sempre sentito un calore forte da parte dei tifosi, quindi per me, a me da carica, mi carica a vedere la gente che canta e che incita. Secondo me deve essere assolutamente in queste due partite perché io penso a queste due partite come dove bisogna chiudere la pratica, quindi averle in casa per me è molto molto importante. Molto molto importante e spero che i tifosi verranno, come hanno sempre fatto, verranno in tanti e grideranno e urleranno per farsi sentire e darci una mano. Sono quattro finali, abbiamo di fronte delle squadre che sono al nostro livello, tranne comunque la Reggiana che sta lottando per vincere il campionato, però io penso a Cararese, a Pontedera, non hanno tanti punti in più di noi e dobbiamo fare una partita dove sappiamo che partiamo alla pari, sullo 0-0 e insomma dobbiamo dimostrare di volerlo più di loro e di volerci prendere la salvezza subito. Nel mercato di gennaio è arrivato anche Simone Jacoponi, quindi magari portare anche un po' più di concorrenza, un po' più di aria nuova, di quella voglia di arrivare a un obiettivo che sembrava così lontano quando sono arrivato, magari sì, magari arrivare e portare energie nuove penso che abbia giovato alla squadra, non solo io ma proprio tutti gli arrivi di gennaio, penso che portare aria nuova sia stata una cosa buona.